Per noi era importante fare un passo avanti nel lavoro tecnico, credo che oggi abbiamo fatto un vero capolavoro di squadra e credo che la fotografia di questa partita sia stata proprio Matt Walsh che anziché giocare da solista è stato il playmaker aggiunto a questo team. Stiamo lavorando, stiamo mettendo continuamente in quintetto Simone Fontecchio, crediamo in lui e credo che tutti quanti hanno fatto un passo avanti. Per 40 minuti davanti qua onestamente è una bella impresa. Abbiamo alternato uomo e zona e alla fine anche per proteggere i nostri lunghi dei falli e dalla pericolosità di Ivanov e Thomas trovato dei grossi frutti. Abbiamo tolto spazi in mezzo all'area e ritmo alle loro guardie. L'idea era proprio di non farli correre perché sappiamo che Avellino trae grande vantaggio dal contropiede, dalla palla dentro e dai rimbalzi ad attacco. Abbiamo sofferto in più la seconda voce anche perché avevamo carichi di falli, però l'obiettivo di giocare 24 secondi per non farli correre è stato raggiunto.